Non si placano le polemiche in riva allo stretto in merito alla visita della vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, intervenuta martedì scorso al liceo scientifico Leonardo da Vinci a Reggio Calabria. La Carfagna ha partecipato ad un convegno su cultura e legalità insieme ai parlamentari forzisti Canizzaro, Santelli e Siglari. La deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare in quanto l'evento possedeva una chiara matrice politica ed inoltre la dirigente scolastico Giussi Princi figurerebbe nella rosa dei papabili per una candidatura a sindaco della città, un'accusa quest'ultima smentita ai nostri microfoni dalla stessa dirigente. Non sono interessata come non lo sono mai stata, io amo la mia città, sto dando un contributo importante formando appunto le giovani generazioni che poi appunto mi auguro possono rappresentare quella futura classe dirigenziale e politica. La senatrice pentastellata Bianca Laura Granato ha invece dichiarato di voler informare il ministro dell'istruzione Marco Bussetti in quanto la dirigente avrebbe più volte nell'ambito di attività dell'istituto usato la scuola come proscenio per il partito di Forza Italia in cui milita il cugino, ossia l'onorevole Canizzaro. Anche su questo punto la princi smentisce. Abbiamo ospitato altri parlamentari quali l'onorevole Morra, l'onorevole Lella Golfo, l'onorevole Nico Dascola, abbiamo ospitato l'attuale sindaco Falcomatà, il presidente del consiglio regionale Nicola Irto, il presidente della giunta regionale Oliviero, ma per dire è una scuola aperta che si confronta con le istituzioni. Angela Panzera per la CNews 24.